Tocco finale Tocco finale Metta binte Tocco finale Ah guardate che si vedi su Pundi che torna ah 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 Mi chiamano i carichetto Cazzo non vada a Pundi che si... Prima vada a cacare Cazzo e poi lo manciamo a stare al forno La manciamo a stare al forno Ma lasciamola a stare al forno Cazzo Grazie.